Per la terza edizione dell'Ugola della Sabina abbiamo i tre finalisti, salutiamo intanto tutti i ragazzi, eccoli qua, venite un po' più avanti, ringraziamo l'Istituto Santa Maria, ringraziamo colui che ha ideato questo torneo Canoro, Gianni Piccardo, ringraziamo tutta la regia, tutti gli ospiti, tutta la giuria, e decretiamo vincitore della terza edizione, Samuele Grassi, e vorrei ancora un applauso per il secondo arrivato Luca Teradone, e ancora terza Beatrice Petrini, ringraziamo Joe Pavota, ringraziamo Daniele Sinasce, Incrizia è il nostro assistente, tutta la giuria, elenchiamoli di nuovo, eccoli qui, vai! Bene sì, un grazie speciale al presidente della giuria Andrea Lovecchio, un applauso, anche a Gianfranco Putina, a Ranati Arinaldi, ad Antonio Ranalli, venite con noi, su, 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 venite, 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 la giuria, venite, 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 ancora la regia di Alessandro Di Filippo Capitanata, con tutti i ragazzi che hanno fatto veramente le ore piccole, un applauso speciale anche alla madrina, è vero, a Sara, io ringrazio con un applauso speciale Daniela Minucchi, un applauso, grazie, un applauso speciale, un applauso, grazie, un applauso a tutti, grazie, grazie, sì sì,